Allora, come attrice rivelazione va le ciliegie d'oro del cinema per La vita facile di Lucio Pellegrini, Camilla Filippi. La Camilla ha alle spalle anche già una carriera di film, di televisione, una carriera artistica anche lui ma credo che questo film abbia in qualche modo segnato un po' una svolta. Ecco, il fatto che fosse diretto da tuo marito ti ha aiutato? Devo dire che è sempre importante che il regista ami i propri attori perché quando in questo caso appunto mi amava molto ero anche incinta al settimo mese e mezzo quindi moltissimo mi amava. La pancia che abbiamo proiettato qui, il personaggio interpretato da Camilla che è un'infermiera generosissima, simpaticissima è anche incinta, quindi la pancia era vera. La pancia era vera, sì, valore, quindi è un premio doppio questo che è anche per il mio vivo. Va bene, grazie, va bene, chiaramente ringrazio Lucio per avermi dato questa possibilità e voi per questo premio. Grazie. Adesso cominciano le difficoltà, io credo che forse Lucio può intervenire qua, mi aiuta, non finisci qua, noi siamo abituati con i fuori programma. Questa è una collana della Roma, l'azienda che fa le ciliegie d'oro del ciliello italiano, è previsto per le donne. Grazie. Grazie a te. Decisamente non si rende la vita facile soprattutto alle signore perché sono in genere più cariche quando scendono. Andiamo avanti, film... No, no, attore. Ah, ecco qui, subito. Attore e rivelazione, sappiamo che si era perso, ecco perché andava avanti.